oroscopo sicilia nuova puntata scopriamo insieme il quadro astrale per la giornata di oggi Ariete anche chi aveva deciso di non innamorarsi più cede le armi attenzione rapporti in cui c'è stata una separazione conflittuale ci sarà da lottare ma alla fine si arriverà a una mediazione in particolare gli uomini del segno potrebbero avere qualche grana da sanare con il partner da oggi si con le basi per avvenimenti importanti toro molte coppie hanno fatto scelte importanti queste stelle efficienti risolvono un annuso problema un contenzioso aperto da mesi con una persona che ormai fa parte del passato sarai proprio tu a fare il bello e il cattivo tempo quindi non esitare a scegliere è il ideale per fare incontri emozionanti sensazioni forti in arrivo incontri durante i viaggi e una persona che finalmente sarà più presente nella tua vita proprio come desideravi gemelli oggi è la giornata ideale per avvivare le unioni più noiose attenzione ai tradimenti con un cielo così chi non è più innamorato potrebbe distrarsi agosto come avrete visto è favorevole per le riconciliazioni il periodo si presenta ricco di emozioni e stupisce la volontà di mettersi in gioco dopo una chiusura o una delusione sentimentale non bisogna perdere di vista le novità cancro le intuizioni saranno particolarmente forti specialmente nella giornata odierna i pianeti infatti sono in buon aspetto e ti spingeranno a seguire il tuo istinto le opportunità non mancheranno e dovrai essere pronto a coglierle al volo chi ha lavorato duramente nei mesi passati inizierà a vedere i frutti dei propri sforzi e sarà finalmente gratificato leone che ha vissuto un distacco vedrà riaprirsi le porte del cuore le coppie che desiderano avere un figlio trasferirsi o sposarsi avranno un'occasione in più molti faranno una scelta importante che riguarda l'amore o la casa oggi c'è la possibilità di fare conoscenze divertenti e piacevoli è un momento propizio per liberarsi di un peso e tuffarsi nuove avventure all'insegna anche di incontri interessanti vergine le forti tensioni assorbite nel lavoro potrebbero rivelarsi in amore nella giornata odierna ma anche negli ultimi giorni del mese in certi giorni proprio come oggi non hai voglia di sentire le lamentele del partner o se il tuo cuore è solo di metterti in gioco in relazioni che non ti appagano agosto è un po particolare non è scialbo ma non regala sensazioni speciali stai sereno sta per finire bilancia anche oggi non saranno tutte rose e fiori perché un ritorno alle preoccupazioni del passato offuscherà di nuovo la tua mente i separati che da poco hanno elaborato e scacciato via la malinconia oggi si sentono pronti a ricominciare e devono svincolarsi da antichi retaggi e pensieri dolorosi scorpione se sei solo e cerchi l'amore l'amore preparati a fare nuove amicizie non escludere la possibilità di una nuova passione improvvisa le stelle ti consigliano di essere attivo amplia le tue conoscenze in ambito personale e professionale approfittando delle opportunità che questi ultimi giorni di agosto possono offrirti sagittario per fortuna le opposizioni planetarie sono diminuite favorendo un maggiore dialogo nelle relazioni anche se oggi ci saranno sfide psicofisiche evita di portare il lavoro a casa i giorni critici sono ormai passati e questi ultimi giorni d'agosto saranno all'insegna della serenità tanto ricercata capricorno le coppie anche quelle più solide e longeve oggi potrebbero attraversare discussioni per quelle in crisi la tensione potrebbe aumentare proprio in questi ultimi giorni specialmente in concomitanza di grandi decisioni come l'acquisto di una casa o un trasferimento siete pazienti e trovate il giusto equilibrio tra di voi acquario oggi è la giornata perfetta per fare nuove conoscenze e lasciarsi emozionare è un periodo in cui puoi decidere se vuoi vivere relazioni temporane o fare scelte decisive per il futuro per le coppie che stanno pensando di avere un figlio è un momento favorevole ma anche per i single che finalmente potrebbero trovare l'amore della vita pesci oggi le stelle continuano a indicare un periodo di transizione emotiva e professionale se hai affrontato recentemente una separazione o una situazione complicata è probabile che ora riuscirai ad avere un chiarimento rinnova il tuo impegno verso il futuro con fiducia sapendo che le difficoltà stanno lentamente lasciando spazio alle opportunità siamo giunti al termine anche di questa puntata di oroscopo sicilia io come sempre vi ringrazio e vi aspetto alla prossima e vi aspetto alla prossima